Musica Benvenuti a Sanremo Sanremo è molto famosa per il mare, per il clima e per i fiori della riviera Volevo ringraziare Ocemi Siot per avermi invitato sul Lagoon 55 È il nostro piacere, oggi siamo lieti di avere a bordo amici e una famiglia di quattro persone che vivranno un'esperienza unica a bordo di questo catamaro naviera Ci racconta i piatti del giorno, chef? Oggi proponiamo una trofia al pesto ligure, piatto molto tradizionale e dei gamberi di Sanremo locali con un'insalatina di fiori eduli della nostra zona Le baleari Allora sicuramente la stabilità data dal Lagoon 55 è incredibile perché è una barca molto ampia, molto larga e permette di praticamente volare sull'acqua e inoltre l'elettronica presente a bordo è assolutamente confortevole per quanto riguarda il tipo di navigazione ed ha una mano grandissima per governare e guidare questa barca Svegliarsi al mattino guardando il mare con questa nuova configurazione delle camere, del letto è fantastico e poi continuare con una colazione nel pozzetto veleggiare al mare aperto e poi prendere il sole bella tranquilla Mi piace molto perché è stato molto ben studiato ed è molto confortevole e molto pratico quindi è veramente un'ottima soluzione Il tenderlift Essendo io amante della navigazione a vela direi il flybridge Lush is long Divano Prendere il sole a pelo d'acqua e poi un bel tuffo in mare Per me è migliore la large version perché dà proprio la possibilità di godersi ampiamente il pozzetto Sicuramente anche solo salire è stato bellissimo e la parte più bella penso si è stata aprire le vele Confortevole Elegante Sicuramente performante Emozionante Molto Emozionante Emozionante Emozionante